Vi mostro un prodotto piuttosto bizzarro, si chiama Alcatel A5 LED Quello che vedete nelle mie mani è un telefono che probabilmente non comprerete per le caratteristiche tecniche ma semplicemente perché è piuttosto originale per questa ragione vedete la cover posteriore che si illumina con dei led che hanno dei temi, dei patterns che possono essere scelti poi vi spiego anche di che tipo allora intanto vi dico che questo è uno smartphone con un processore Mediatek con 2800 mAh di batteria un display HD tra l'altro da 5,2 pollici con processore Mediatek con 3 giga di RAM tutte queste caratteristiche, addirittura 8 megapixel la fotocamera posteriore, 5 megapixel la fotocamera davanti diciamo che le caratteristiche tecniche non vi faranno acquistare questo telefono qui l'originalità sta tutta nella parte posteriore continuiamo a vedere dunque questo tema blu che in questo momento si sta presentando in realtà guardate la cover è piuttosto originale intanto vi faccio vedere anche come è fatto il telefono pulito su questo fronte da questa parte con l'attacco per le cuffie da 3,5 mm volume rocker e pulsante di accensione altoparlanti ed attacco con micro USB la parte frontale vedete c'è la fotocamera con il flash da 5 megapixel la qualità non è esattamente il massimo così come quella sulla parte posteriore insomma non è che mi facciano proprio impazzire vedete se io tolgo la cover e adesso faccio un'opzione per cui prendete il telefono esploderà e vedete tolgo la cover che ha i contatti per attivare i led in questa posizione anche piuttosto spessa proprio come misura lo potete vedere forse da questa cosa qui quanto è spessa la cover di questo Alcatel a 5 led ma la cosa curiosa sta anche sotto la cover guardate come sono allocate le doppie sim qui mettete la sim numero 1 e qui la sim numero 2 mentre lo spazio per la micro SD sta esattamente qui nella parte laterale insomma una soluzione piuttosto curiosa rispetto a quella che ormai è la soluzione che quasi tutti gli smartphone adottano cioè quella del cassettino con cui voi inserite la vostra scheda SIM ma vediamo anche come funziona allora vedete ad esempio questi colori questi colori sono piuttosto singolari allora a bordo intanto diamo ecco un occhio anche a questa caratteristica a bordo diamo subito un'indicazione su quale sia il software vedete Android 6.0 aggiornato abbastanza di recente insomma avete tutte le caratteristiche ad esempio l'accensione e lo spegnimento programmato che è tipico dei processori Mediatek e poi vedete anche qualche gesture che potete fare per ad esempio capovolgerlo per disattivare la suoneria o prendere uno screenshot passando tre dita sul display qui potete scegliere essenzialmente quale dei vostri launcher utilizzare però insomma tutto sommato questi sono caratteristiche che conoscete abbastanza bene il download accelerato è una delle caratteristiche sempre dei processori Mediatek a cui siamo ormai abituati da tempo allora ho chiuso tutte le applicazioni per mostrarvi un po' anche questo light show che è un po' il cuore del telefono voi essenzialmente potete scegliere quando ascoltate musica di utilizzare alcuni di questi temi che sono gli stessi che potete rivedere vedete quando se io faccio illuminati adesso luci della notte posso essenzialmente attivare questo tema sulla parte posteriore anche a comando vedete se io chiedo il tema autostrada sulla parte posteriore avete questi giochi di colore potete anche tra l'altro volendo abbinare questi temi luminosi ai vostri chiamanti a coloro che vi chiamano e questa ad esempio è una soluzione molto carina vedete chiamate in arrivo potete essenzialmente fare in modo che con i vostri contatti preferiti o all'arrivo di notifiche si illumini il display posteriore così come potete scegliere uno di questi temi per quando ascoltate la musica voi attivate la riproduzione musicale vediamo se lo possiamo fare ad esempio in questo momento non mi ricordo più se ho qualcosa in play musica ma dovrei voi attivate essenzialmente la riproduzione musicale e quando lo fate no grazie vedete io adesso metto ben about you vedete in questo momento si sta riproducendo la musica e ha cominciato a essere attivata questo tema che volendo fatemi spegnere per un attimo questo volendo io posso semplicemente cambiare anziché i petardi posso scegliere di utilizzare il ritmo della musica per scusate eccomi vedete che in questo momento è come se fossero un po' gli indicatori led tipici di un impianto hi-fi questo dunque una delle funzionalità legate all'utilizzo dei colori ma ve ne mostro anche un'altra ci sono alcuni giochini come ad esempio questo in cui esenzialmente voi dovete fare più rumore possibile vince chi fa più rumore possibile e girando il telefono vedete la misurazione qua sulla parte posteriore cioè se io faccio essenzialmente vedete adesso io faccio rumore con le mani lui registra e si gioca a chi fa più rumore se giocate a questo genere di giochi poi arriva la neuro e vi porta via questo insomma è sottinteso però a qualcuno potrebbero anche piacere vi faccio vedere un'ultima cosa perché poi come detto non è che ci sia veramente tantissimo da raccontarvi ad esempio invece è questo vedete color catcher vi faccio vedere questa cosa del acquisisci ora io sto puntando vedete il mio ufficio il sistema rileva dei colori in giro per l'ufficio se io dico ok lui mi sta preparando in pratica un tema del telefono che viene costruito sulla base dei colori che vengono rilevati nell'ambiente adesso vedremo tra un secondo insomma ci impiega un po' di tempo per farlo vedete è cambiato completamente il tema del telefono che con questo color catcher richiama essenzialmente insomma i colori che ci sono intorno a noi ma poi nel funzionamento di tutti i giorni ecco solo in pochissimi secondi vi faccio vedere intanto la fotocamera come dicevamo da 8 megapixel vedete è molto semplice collage istantaneo questa è una delle cose più curiose vi permette essenzialmente è come se aveste l'applicazione layout quindi di creare un collage scusatemi un collage immediato per la pubblicazione su Instagram le foto e poi la panoramica cosa a cui siamo abbastanza abituati tutto sommato un buon livello per quanto riguarda la fotocamera che vedete non ha granché ci sono solo questi filtri colori da applicare ma per il resto non è che ci siano grandissime possibilità di personalizzazione abbastanza diciamo tutto sommato nella norma il funzionamento del processore Mediatek cerchiamo vedete attivando il browser vedete non è esattamente un fulmine di guerra nel funzionamento però questo non credo sia un prodotto destinato a coloro che vogliono qualcosa di molto sofisticato dal punto di vista tecnologico il costo tutto sommato è contenuto intorno ai 200 euro diciamo che l'essenza del telefono sta tutta in questi effetti dei led sulla cover posteriore per un pubblico giovane potrebbe essere secondo me un prodotto divertente per me forse non è esattamente il prodotto più adatto però insomma se vi può interessare a 5 led è in vendita da poco anche in Italia a 5 led è in vendita da poco a 6 led è in vendita da poco a 6 led è in vendita da poco